Ragazzi e ragazze, da quanto tempo? Chi sono io? Giovanni Saponano? Va bene, lasciamo a tutte le ciance e vi dico subito dove ci troviamo qua. Vedete, oggi è una giornata speciale perché mi trovo esattamente in un castello di Monteserico, un castello che è in giornata proprio speciale di apertura. Oggi Monteserico si trova nel comune di Genzano di Lucania, chiaramente provincia di Potenza e vedete un po' intorno questo meraviglioso castello qui di Monteserico, la panoramica è bellissima, chiaramente dentro non c'è dei soppelletti e altre cose ma comunque è sempre interessante vedere con il terrazzo anche sopra. Vedete anche qui l'Appennino è meridionale, è così. Io vi devo dire che sono mancato un po' di tempo ma sono rientrato, sono ritornato a mostrarvi l'Italia, la bella Italia del sud tra cui Puglia e anche Basilicata. Per questo non vi dico altro che un saluto da Giovanni Saponaro.